allora buonasera ragazzi oggi è il 3 giugno 2020 sono le ore 21 e 50 minuti oggi vi faccio vedere la bici del 2003 con le sue nuove pubblicità 2020 completamente finita adesso vi faccio vedere fra qualche minuto qualche secondo vi faccio vedere il video integrale della bici 2003 e domani la vedrete sulla strada bene adesso andiamo a vedere la bici ovviamente ovviamente è finita e la faccio vedere in versione integrale come avevo promesso allora sei pronti allora pronti partenza via la canzone di charlotte ecco la bici del 2003 allora questo è l'altro da bici e questa diciamo alla parte posteriore con le sue nuove pubblicità la prima è chi ha bisogno di lavorare può chiamare questi numeri sotto 366 877 197 e anche c'è la seconda pubblicità che aprirà nei prossimi giorni e da qui vedete la piccola gixi la strada di grandissima bici del mondo che vedete tutti i giorni con le bici e qui c'è scritto sono gixi la canzone delle biciclette e a trovarmi al mio o un ristorante per riuscire a trovarsi bisogna chiamare questi numeri qua ecco i quali numeri vedete? bene adesso vi faccio vedere la bici e c'è anche un pocacchetto di gipsi ovviamente abbiamo trovato anche il posto anche per lui, per l'orsacchiotto, e la matondina, vedete? e c'è questa ventolina che gira, che fa le crimine, vedete? bene, la biffi praticamente è stata finita anche dentro i muschi, che vedete, anche dentro i messaggi, i bazzetti si illuminano vedete? l'ho fatto io, vedete? vedete i bazzetti si illuminano? bene, è finita, domani la vedete sulla strada vedete le luci che camminano? questo è il mio seio, eh? guardate, le luci che cambiano colore vedete? lei è di Oscar cartone animati, questi sono cartone animati che io mi sento quando vado a fare le montagne, con queste grandissime bici vedete? ecco la bici del 2003 ormai mi la vedo sulla strada ecco i suoi colori, tutta colorata tabella accesa bene